ciao a tutti oggi siamo con questa sh 150 che ha avuto un piccolo problemino che probabilmente verrà risolto con la garanzia poi vedremo un attimo allora intanto qui abbiamo la testata coperchio valvole ingranaggio distribuzione pattino ten di catena bobina cablaggio collettore aspirazione con iniettore e pompa dell'acqua tutto questo per arrivare qui con il motore completamente rimosso dal veicolo causa piccola diciamo per dire grippata la classica grippata adesso apriamo proprio il monoblocco lo apriremo tutto vediamo da che cosa è dovuto mezzo percorso solamente 4000 km vediamo dai probabilmente andrà tutto in garanzia